Allora, le ultime due inizia Giovanni Balsarini, Mediaset. Sì, buongiorno ancora Andrea. Poco fa Conte ha detto che non è ancora stato colmato da parte dell'Inter il gap con la Juve. Secondo te è un modo per scaricare un po' la responsabilità di questa partita su di voi. Sì, a lui piace questo, però lo conosco bene, quindi cerca di togliere la pressione sui suoi per metterla noi, ma noi non abbiamo problemi, siamo la Juventus, vinciamo da nove anni e quindi è normale che abbiamo la pressione più degli altri, però loro non sono da meno, sono stati costruiti per cercare di vincere lo Scudetto e domani sarà una partita da giocare a viso aperto tra due grandi squadre che hanno la stessa ambizione. Allora, le ultime due inizia Giovanni Balsarini, Mediaset. Sì, buongiorno ancora Andrea. Poco fa Conte ha detto che non è ancora stato colmato da parte dell'Inter il gap con la Juve. Secondo te è un modo per scaricare un po' la responsabilità di questa partita su di voi? Sì, a lui piace questo, però lo conosco bene, quindi cerca di togliere la pressione sui suoi per metterla noi, ma noi non abbiamo problemi, siamo la Juventus, vinciamo da nove anni e quindi è normale che abbiamo la pressione più degli altri, però loro non sono da meno, sono stati costruiti per cercare di vincere lo Scudetto e domani sarà una partita da giocare a viso aperto tra due grandi squadre che hanno la stessa ambizione.